Buongiorno, sono Antonio Fresco, socio fondatore dell'Associazione Giovani Psicologi della Lombardia. Nata nel 2007, l'Associazione da sempre si impegna ad informare i soci ed i simpatizzanti sulle diverse posizioni inerenti questioni di politica professionale. Oggi GPL cerca di promuovere una riflessione consapevole rispetto ai prossimi referendum riguardanti tre articoli del nostro codice professionale. In questa occasione abbiamo deciso di dare spazio in particolare alla proposta di modifica all'articolo 21. Abbiamo scelto di mettere a confronto le posizioni più estreme all'interno del Consiglio Direttivo dell'Ordine, quella di Mauro Grimoldi e di Anna Barracco. Conduce l'intervista Luca Mazzucchelli. Al termine del filmato, dopo le conclusioni di Roberta Cacioppo, sarà possibile visualizzare la versione attuale dell'articolo 21 e le modifiche proposte dal referendum. A tutti buona visione e buon voto. Sono Mauro Grimoldi, faccio parte del gruppo di politica professionale Altra Psicologia, sono presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e sono referente del gruppo tecnico sulla tutela del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Faccio parte del gruppo che ha redatto la nuova versione dell'articolo 21. Sono Anna Barracco, sono una psicoterapeuta di orientamento lacaniano e sono qui come rappresentante del CIFRA, coordinamento italiano delle professioni della relazione d'aiuto. Cosa cambierà per gli psicologi con l'approvazione del nuovo articolo 21? Penso che non cambierà assolutamente nulla. Soltanto gli psicologi potranno spaventarsi e lasciare quindi parte della loro possibilità di inserimento professionale ad altre professioni. Cambierà che le regole sono più chiare con il nuovo articolo 21. Per gli psicologi significherà che insegnare psicologia e soprattutto le tecniche specifiche che costituiscono il cuore pulsante della nostra professione non possono essere insegnate a chiunque. Perché non bastava applicare l'articolo 21 esistente? Questo bisognerebbe chiedere agli estensori che hanno ritenuto di cambiarlo. Io credo che anche l'altro non solo bastava ma anche già avanzava perché comunque era già anticostituzionale, era stato segnalato all'antitrust e l'antitrust aveva dato ragione ai segnalatori. Perché nell'articolo 21 esistente mancava una parte importantissima cioè la definizione di quelli che sono gli strumenti tipici della nostra professione. Questa era una mancanza che non si poteva sostenere. Numerose associazioni stanno nascendo intorno a queste professioni non riconosciute che moltiplicano le figure che pur non essendo psicologi vorrebbero in qualche modo imitare la nostra professione costituendo un serbatoio importante dal punto di vista economico per chi vuol fare insegnamento a questi soggetti ma anche costituendo un serbatoio importante per l'abusivismo professionale. Cinque motivi per sostenere la tua posizione. Vota sì perché è importante tutelare la salute pubblica che è affidata a noi dalla legge 5689. Vota no perché questo vorrebbe limitare l'abusivismo ma in realtà rischia di far implodere la professione e taglia degli sbocchi professionali più che legittimi agli psicologi. Vota sì perché è importante che lo psicologo non avalli l'esercizio di attività abusive. Vota no perché questo articolo è anticostituzionale e paternalistico. La professione si tutela con l'accreditamento, con la certificazione dei percorsi professionali e formativi, con il contratto obbligatorio. Questa sì che è tutela dell'utenza e anche del professionista. Vota sì perché questa volta è finalmente chiaro che cosa costituisca atto tipico della professione di psicologo e quindi che cosa sia riservato solo a chi esercita la professione di psicologo e a chi ha svolto un percorso formativo preciso e tutelante per i pazienti. Vota no perché questo articolo peggiorerà la situazione di grave conflitto che già caratterizza la nostra categoria. Vota sì perché il nuovo articolo 21 non sanziona chi fa una formazione generica sulle tecniche di ascolto di infermieri o educatori, ma soltanto a chi decide di passare a qualcuno che non è a titolo gli strumenti tipici della nostra professione. Vota no perché questo articolo non farà sparire dalla faccia della terra counselor, coach, mediatori familiari. Semplicemente rischierà di spaventare gli psicologi e toglierà loro qualche fetta di mercato. Vota sì all'articolo 21 perché la crisi esiste, ma questo non ci giustifica a poter fare qualunque cosa. Vota no perché la salute è un bene di tutti e non si può pensare di limitare la circolazione del sapere. Cosa spinge i colleghi a pensarla in maniera diversa da te? Credo che i colleghi si illudano che questo articolo possa limitare per legge l'invasione dei propri confini. La competizione con altre professioni si gioca sul campo e si gioca con altri strumenti, che sono gli strumenti accreditatori di cui parlavo prima. Certificazione dei percorsi, accreditamento, formazione continua, contratto ostensibile. Questi sono gli strumenti con cui si devono conquistare gli spazi professionali e non certo i divieti di legge. Perché un collega dovrebbe svendere quello che costituisce ciò che di più sacro, di più profondo, di più complesso ha imparato nel corso della propria professione? Perché mettere i pazienti a rischio e perché creare dei falsi colleghi che popolano le nostre strade e le nostre città? Per la ragione più antica del mondo io credo, non ne vedo assolutamente di altre. Vedo un interesse privato che in questi casi viene considerato prevalente rispetto all'interesse pubblico della nostra comunità professionale e della comunità dei cittadini che dovremmo tutelare. Perché all'estero non ci si pone il problema dell'articolo 21? Perché esiste un ordinamento delle professioni che è completamente diverso. C'è un sistema accreditatorio, mentre il nostro è un sistema autorizzatorio. All'estero si associano i titoli ai percorsi, quindi ogni titolo è associato ad un percorso specifico, un po' come il nostro articolo 3 dove si dice che l'attività psicoterapeutica è subordinata ad un quadriennio che può essere frequentato solo dopo determinate lauree. All'estero è tutto così, man mano che nascono percorsi vengono certificati, vengono certificate le associazioni, vengono certificati i coordinamenti e lo Stato stabilisce degli standard. Ci sono paesi dove i contributi previdenziali non sono obbligatori e le persone non hanno la garanzia di poter avere una pensione. Ci sono paesi in cui il lavoro minorile non è tutelato e altri in cui non è obbligatorio mettere il casco. I paesi sono diversi l'uno dall'altro, in Europa ci sono già due Europe diverse che ragionano in maniera diversa rispetto alla questione delle professioni. Ci sono paesi liberisti e paesi che tutelano di più i propri cittadini. Noi viviamo in un paese che tutela i cittadini, non comprendo perché solo gli psicologi dovrebbero rinunciare a tutelare la propria professione e i propri clienti. Esprimi una frase che convinca gli psicologi a valutare il tuo punto di vista. Collega, io penso che tu possa anche votare sì perché credo che tanto questo articolo non cambierà nulla, cioè in questo modo non cambieranno radicalmente le cose. Forse peggiorerà un po' il clima interno alla categoria, però penso che è importante sul piano della democrazia e dell'etica esprimersi per un no. Perché questo cambiamento va nella direzione di portare indietro la società italiana, di far passare un valore che è un valore della chiusura, un valore della non circolazione del sapere. Mentre invece gli psicologi, anche in base proprio al loro codice deontologico, hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di aiutare i clienti a comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Il che significa inevitabilmente trasmettere delle competenze di empowerment. E quindi questo articolo in qualche modo va a negare questo principio di fondo, che è un principio etico, ma anche programmatico politico. Il nuovo articolo 21 per me, che mi ci sono dedicato a Anime Corpo, costituisce un pilastro della nostra professione. Ribadisce il fatto che esistono delle azioni, delle cose che può fare solo chi ha svolto un percorso certificato e mostrabile, ostensibile ai propri pazienti e ai propri clienti. Questo è l'aspetto essenziale. Lo psicologo può fare delle cose che un altro cittadino non può fare. Questo l'articolo 21 lo sottolinea in modo preciso e ci dice che non tutti possono fare tutto. Questa limitazione al desiderio individuale, secondo me, è un atto di saggezza, di coraggio, di dedizione nei confronti dell'altro. Io ci credo profondamente, così come credo che senza articolo 21 non avremmo nemmeno la legge 5689. A nome di Giovani Psicologi della Lombardia ringrazio Anne e Mauro per il loro contributo, che pone delle questioni di grande attualità per la nostra professione. Adesso starà a ciascuno di noi decidere come votare al referendum cui saremo chiamati tra poco. Personalmente sono favorevole all'approvazione delle modifiche dell'articolo 21. Come associazione crediamo però che non sia solo costruendo un muro a difesa della professione che si tuteli la specificità del nostro lavoro. Questo perché, concentrandosi sulla sanzione, si finisce per giocare inevitabilmente in difesa. Esiste infatti un altro approccio possibile, centrato sulla promozione attiva della professione, che punta ad un sempre maggiore sviluppo delle nostre competenze e della nostra identità professionale. Grazie. Grazie.